Lo spettacolo Antigone, una storia africana del regista Massimo Luconi diventa una mostra fotografica. Sabato alle 17, nell'antico refettorio di San Domenico, verrà inaugurata l'esposizione che mette in mostra fino al 20 maggio una trentina di scatti del fotografo Carlo Cantini, realizzati nel 2013 al Teatro Fabricone. Un progetto targato Prato Cultura e curato da Carlo Palli, che rappresenta la conclusione di un percorso di formazione è durato circa tre anni, dal 2012 al 2015. Tutto è iniziato in Senegal con un laboratorio teatrale di Luconi, che ha poi portato alla realizzazione dello spettacolo Antigone, una storia africana, rilettura di una delle tragedie greche più conosciute attualizzata alla situazione sociale dei tempi nostri. Il progetto di Antigone, realizzato con un gruppo di giovani attori senegalesi, per me è stata un'esperienza molto significativa, dal punto di vista professionale, come regista, perché lo spettacolo ha avuto un esito molto positivo, con una tournée in Senegal, in Francia e poi in Italia in teatri importanti e per ultimo al Teatro Grande di Pompei. Poi nel 2014 c'è anche una lunga permanenza a Prato, al Fabricone. Quindi questa esperienza ha significato poi anche dal punto di vista personale, umano, anche mettere insieme un gruppo di ragazzi che hanno formato una compagnia e che continuano a lavorare e in qualche modo continuano a fare teatro. Infatti con loro poi ho realizzato un altro spettacolo dalle ceneri, da un testo di Benjellum e poi per ultimo, ora in questi proprio recentemente, un Brecht, un Arturo Ui. Quindi c'erano delle foto molto belle di Carlo Cantini, che è un fotografo estremamente importante dal punto di vista anche di foto d'arte, di ritratti. E quindi con Carlo Palli, che è il curatore della mostra, è stata una riflessione su questa possibilità di ripensare tutto il progetto attraverso questo percorso fotografico.